La musica classica è sempre stata per me una luce, una guida. Una delle caratteristiche essenziali della musica di Mahler è la capacità di utilizzare materiali musicali dalla provenienza più disparata. Pratt non dirige la musica, la interpreta con tutto il corpo. Sta dormendo? No, no. La genesi della sinfonia copre dunque quasi l'intera parabola biografica di Gustav Mahler. Anche questa è la carriera di un musicista.